Dopo aver creato Convochi il nostro personaggio, in questo caso un ragazzino londinese di nome Peter, aver messo lo sfondo dietro al personaggio, digitiamo il testo in inglese che desideriamo venga detto dal nostro avatar e dobbiamo fare molta attenzione a scegliere l'accento della lingua quindi dalla tendina comparsa clicchiamo su inglese e scegliamo la voce di un ragazzo, ad esempio Daniel a questo punto la creazione è completata, clicchiamo su fatto e su publish per pubblicare il nostro avatar lo nominiamo e lo salviamo il software Voki genererà a questo punto un codice ecco qui il codice, lo copiamo perché ci servirà per portare il nostro Voki sul software notebook della lavagna interattiva ecco qui siamo su notebook andiamo sui nostri contenuti io ho scaricato Voki come potete vedere dal tutorial e lo trascino nella mia pagina mi compare questa finestra inserisco dentro questa casella il incollo il codice generato dal software e clicco su go ecco appare adesso il mio personaggio analogamente posso fare con altri personaggi che parlano in altre lingue qui abbiamo Peter da Londra Charlotte da Parigi e Francisca da Madrid sentiamo cosa dicono Peter Hello guys, I'm Peter I live in London and I speak excellent English I will help you to learn my language you have to write the text and I will repeat perfectly Charlotte Hello guys, I'm Charlotte I live in Madrid and I speak excellent Spanish I will help you to learn my language you have to write the text and I will repeat the perfect in questo modo si possono creare personaggi da tutto il mondo io e io io